Velocità. La velocità è sempre qualcosa che mi ha bruciato dentro, qualcosa che mi piaceva sin da piccola in su, qualcosa che ho sempre cercato. Sono Nicole De Lago, sono nata in Val Gardena, faccio parte della squadra nazionale di Scialpino. Le mie discipline sono Super G e discesa. Alla mia prima gara ero scesa tutta dritta, senza neanche farle forte. La Val Gardena ha delle piste stupende per far velocità. La mattina presto, adoro salire con la prima funivia e farmi una discesa in campo libero sulla Stas Long, sulla Ciampinoi, sulla Dante of Champions. Per il mio relax c'è Mika, che mi accompagna a fare le passeggiate in Vallunga e in altri posti stupendi. E io in questi momenti riesco veramente a staccare, a trovare un equilibrio. Io al cancelletto vedo la voglia di scendere, la voglia di essere veloce. Per me è molto importante essere convinta, sapere quello che voglio, quello che devo fare. D'inverno piace tanto quando arrivo in cima alla Ciampinoi, che vedo quel panorama lì, le mie montagne. Una vista, secondo me, unica, spettacolare. E la pista che a me piace di più in assoluto è la Stas Long. Ed è la pista vicino a casa mia, che mi ha sempre permesso di vivere questa passione, che mi ha sempre collegato alle piste e mi permette tuttora di vivere questo sogno. E la pista che a me piace di più in assoluto è la pista di vivere questo sogno. E la pista che a me piace di più in assoluto è la pista di vivere questo sogno. E la pista che a me piace di più in assoluto è la pista di vivere questo sogno.